Ed ecco l'attacco di sfida, eccola qua, è giù, non è già mobilizzato, non è già mobilizzato. Spettacolo, un applauso ragazzi, un grande applauso a questi ragazzi. Io faccio anche il compito pilota della rapina, non l'ho mai fatto. Bellissimo, bellissimo, spettacolo, spettacolo. Solo qui a Cagnolo. A terra è mobilizzato, eccolo qua. Vai a arrestarlo Carlo, è arrestato, preso, brava Frida, brava. Vedete come tira, è lì, non scappi. Bravissima, facciamogli un applauso a Frida, a Cagnolina Cagnolese che viene da Cagnolo. Un applauso anche al comandante che ci ha dato una mano a fare l'esibizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti! Grazie.